Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mike e oggi siamo finalmente ritornati con un nuovissimo video Ragazzi oggi siamo ritornati finalmente con una nuova puntata di In Segreto Quindi ragazzi direi di cominciare subito con il video Donna di 14 anni, quando ogni anno pensiamo a quanto eravamo stupidi l'anno prima, due puntini Donna di 20 anni, da piccola avevo difficoltà a capire che leggero si scrive con due G Perché ero convinta che dovessero avere un suono leggero Io veramente non lo so, ma scusi ma chi me li sceglie questi commenti? Ah no è vero, faccio tutto da solo Donna di 24 anni che scrive, dove c'è Barilla c'è casa, dove c'è Aya c'è Gioia ovviamente la sapete E dove ci sono io c'è ansia Magari, magari, e se ci fosse lei qui? Oh mio Dio, se ci fosse veramente lei qui Uomo di 17 anni che scrive Mi hanno picchiato per aver spento uno spinello a un mio compagno di classe Non voglio che si facciano del male C'è questa donna di 18 anni che io veramente scrive L'unico uomo che può dirmi di abbassare la testa è il mio parrucchiere Cioè... Non te voglio negare Donne di 16 anni Ovviamente ragazzi avete notato queste donne ne scrivono di tutti i colori Di cotte e di crude E ovviamente ci fanno passare dei momenti veramente epici Grazie ai ragazzi di 16 anni Scommetto che tutti, almeno una volta nella vita Ci siano messi a leggere i messaggi sulla porta del bagno Cioè io veramente... Cioè leggendo questi commenti Che ti ridi oh? Che ti ridi? Cosa c'è da ridere? Quindi ragazzi anche questo video di in segreto termina qua Mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E di lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto Detto questo noi ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Solo roba fresca presa Ciao